Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo qui, ritornati oggi, con la Road to Division 1 in Coop, con il buon Xander. Salve. Secondo episodio, e quindi il primo ovviamente, come l'anno scorso, se non lo sapete, è sul suo canale, perché faremo episodi alternati, una volta sul suo, una volta sul mio, una volta sul suo, una volta sul mio. Quindi se vi siete persi il primo episodio, passate dal suo canale. Non è andata benissimo, oggi cerchiamo di fare meglio, anche perché la scorsa volta in due partite non abbiamo fatto neanche un punto, Xander, quindi cerchiamo di fare meglio. Quindi abbiamo scelto il Bayern Monaco, perché l'altra volta abbiamo scelto il Milan, che ci ha fatto veramente schifo. Credo che il Bayern Monaco possa essere... Beh, a vederla sembra una squadra decente. Sembrano bravi ragazzi. Sembra una squadra. Sì, sembra una squadra. Sembra una squadra. Io direi che si può partire col primo match. Primo match, Bayern Monaco, Barcellona. Strano. Oh, santo cielo. Vai, Xander! Ah, vuole 10 ore per fare sta finta. Ma vaffanculo questa cosa che stai spiegando. Se sa dove andavo dritto. Vai, siamo ancora qui. Oh! Dai, stiamo andando meglio dell'altra volta. Sì. Anche ci volesse molto, però. Oh, zio, che intervento. Che intervento, ragazzi. No, Xander. Sono gol. Un danno, allora. Eh. Eh! Ah, beh. Eh, ma Thomas Müller è veloce come mia nonna. Oh! Cristino, davvero. Dai, dai, ci siamo, ci siamo. È che purtroppo, ragazzi, queste sono le prime partite. Obiettivamente bisogna abituarsi. Bisogna abituarsi perché è un altro gioco. Bisogna rimparare a giocare. Se diciamo che questi video, non so quando andranno su, probabilmente era un sacco di tempo, ma mentre registriamo è esattamente il day one di FIFA. Sì, sì. Quindi l'abbiamo proprio appena preso. Esatto. Questo è importante da dire. Perché probabilmente andranno su tra... No. Oddio. Bloccalo. Oddio Neuer. Vai, vai Thomas. Su, grava. Thomas Müller. È un trofeo per questo, però così. Sì. Sì, no. Va a un canderone. No, bella, bella. Anche se forse non era per mi nulla, ma va bene, è uguale. No, l'avevo dato ovviamente per Lewandowski. È un gran pallonetto, però al bacio, signori, al bacio. Ok. Molto bene. Proprio alla fine, non me ne ero accorto, il bug del 45esimo esiste. Beh, loro non hanno mai tirato in porta neanche verso la porta. Zero di in assoluto. Eh, ma infatti non stiamo giocando male, però facciamo fatica a costruire. Si fa molta fatica a costruire. Fa quello che do anche gli altri. Cioè, anche loro fanno molta fatica a giocare. No, ci sono le ruspe. Eh, lo sento. Dio canta! Ma basta con sto casino! Vai Douglas. Vai Douglas. Vai Douglas. Vai Douglas. Un po' che in mezzo l'hai fatto. Vai Douglas, scusa! Sì, non fai notte. Ma ti amo, non è che Douglas scusa a cuore, cazzo. Non è che Douglas scusa a cuore. 2-0 e fa fattura trafano. Questa è il titolo del video, penso. Mi sa, ok. Ragazzi, la scosta c'è, signori. Un cambietto al posto di Thomas che non mi corre più? Sì. Chi ci abbiamo? Ci abbiamo un giovane promettente in panchina. Ne farei anche due di cambi, guarda che ti dico, così. Un giovane promettente in panchina a gozze? Sì. Oddio. Bravo. Sì, sì, ho fatto bene. Non so perché alla beata lì, sinceramente, Xander. Va bene. Dillo che lo stavi per sostituire. No, è vero, immagino. No, comunque no. Cazzo vuoi nei mar? No, no, va bene, va bene, è giusto così. Quindi che entra? Sul rosso ho qualche dubbio. Trado Coman al posto di Lewandowski. Eh? Oh, che parata ha fatto Neuer. Neuer. Che parata ha fatto Neuer. Mamma mia. Xander? Che cos'è? Che cos'è? Aiuto. Recupera, recupera. Questo? Vai Neuer! Cazzo porco, però. 2-1, porca puttana, settantesimo. Non c'è mai a gestire, a vincere la partita tranquillamente. Io un passaggio così indietro non so se riesco a farlo. Entra, 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 non aver paura. Bravo. No, te lo giuro. No, no. Xander, che se andano a fare dei passaggi... Eh, non l'ho fatto io col passaggio lì. Neuer, prendi la... Perché non gli è basso per dare e non prendi il pallone? Passo per... No, cos'è? No, eh. No, raga, infermabili, raga, infermabili. Neuer! Oddio! Oh, santo cielo. Puttana, fuori allo stadio sta palla. Xander! Perché non fanno un passaggio come il visto comando? Via! Fermalo! Il culo. No. In mezzo. Bravo. Via, via, Xander, via. Lancia col pallone che c'è Comand. Sìììììì! Il culo, Barcellona! Finalmente, tre punti. Questa è una partita vera, però. S'è proprio una partita di Google dev'e. È bello, mi è piaciuto. Sì, quando sei in vantaggio. Ma se ne vantaggio ti piace, cazzo. Primi tre punti della stagione, Xander. Meridiotissimi. Mamma mia. Mamma mia. Ok, secondo match contro il Manchester City. Hmm. Interessant. Vai per Douglas. da glas costa l'hai fatto rigore mamma fenomeno 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 io lo compro nella carriera allenatore se me lo vendo è appena arrivato eh lo so gli do 80 milioni a gennaio è il miglior tiratore non guardo anzi si thomas ma che cazzo hai combinato ma che cazzo ne so ma che cazzo hai combinato xan ma dove l'hai tirato ma che ne so io in porta lui in curva dove va? dove va? sei tu? no veramente? te lo giuro dove sei scioccato da quello che fa noia tutto insieme quello che ha fatto müller quello che fa noia un po' tutti madonna che troia stiamo meritando come come sei come non mai oh cos'è sto buco? no no raga questo si bloccava questo si bloccava col culo proprio col culo che sarebbe di col culo? no come cazzo è uscito noia scusate come cazzo è uscito noia ma veramente? ma come è uscito noia ma soprattutto chi gli ha detto di uscire ma poi come è uscito? io non gli ho detto di uscire no neanche io io non dico mai di uscire al portiere sui calci d'angolo no se c'è l'angolo è anche io oddio va ha preso l'incrocio vedi come dio che dico vedi da fuori sono overpower vado sempre a finire lì ma porca troia Lewandowski che tiro che aveva dato c'ha una zonzana che mi rompe il cazzo ma arte le para in questo gioco arte para i palloni non c'ho mai visto passarla però non sarebbe male noia non c'è la stessa cosa 2 a 0 così c'è ha tirato praticamente dritto mi sembra a me scorcia che portiere ancora escono in piedi cioè eh non gli è corso incontro senza fare una mossa senza posizionarsi come dovrebbe posizionarsi un portiere è scattato verso l'avversario correndo classica uscita in piedi di FIFA 15 l'avversario aveva gustato l'occasione importante aveva fatto conti con il guardaline occhio a quest'errore occhio al cross Lewandowski mandiamo dai dai Lewandowski bravo Xandarone ottimo dai 5 gol in 9 minuti leva forza oh oh qualcuno qualcuno tira ma che come ha tirato ma vedete che pippa è in questo gioco come l'ha tirata vai Arian cos'è successo? io mi rifiuto ma come si tiri che sono così a scattoni ma come ma è angolo vero? voglio sperare si è di mano di mano l'ha tirata di mano clamorosa lagga mi lagga aiuto ti lagga aiuto naga Tom ok 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 passala 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 sei sei tu eh? no no in verità no no si no comunque ma guardare il culo eh guarda non ci credo non ci credo no no ieri è una figurina guarda cosa ha fatto l'hai visto? magari non finirà cosa dimmi qualcosa non sono cosa su neuer cioè neuer non so cosa non so cosa dire sembra di santis non so cosa dire non capisco cosa è successo non capisco cosa non voglio più giocare non voglio più giocare che cazzo è? ma cos'è? signori finisce qui anche questo secondo episodio della Rotten Division 1 in Coop speriamo veramente che i prossimi episodi siano migliori ma visto un po' lo stile di gioco sarà veramente dura ricordiamo eravamo sempre cioè siamo rivestiti dal day one impareremo miglioreremo non ho promesso speriamo signori mi raccomando terzo episodio sul canale di Xander lasciate un mi piace, un commento, un consiglio e noi ci diamo alla prossima ciao ciao a tutti ragazzi ciao a tutti